Qua siamo morti Grazie Allora noi le cose abbiamo fatto Come attraverso l'assalto abbiamo invitato ufficialmente il direttore generale dell'Aso a Casati Oggi in occasione di questa manifestazione presso l'ospedale della nostra città Dove si sta arrecando il corteo Con la finalità di sentire dalle tue stesse parole che cosa vogliono fare nel nostro punto di prima intervento Vediamo intanto se Casati avrà il coraggio di venire e di affrontare i cittadini Vediamo se avrà il coraggio di venire anche a noi le stesse fagginate, le stesse fatture, le stesse fatture E siamo detto l'unico e cittadini Lo aspettiamo, vediamo cosa c'è Supperti alle montane, vincione l'ospedale Accita così trano, che cosa si è attuale Supperti alle montane, vincione l'ospedale Accita così trano, che cosa si è attuale Supperti alle montane, vincione l'ospedale Con la finalità di voto tra i calcoli No, 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 no La prima volta di venire anche a noi le stesse fatture Upperti alle montane, vincione l'ospedale